Vi faccio vedere un modello della Scrappyard, il modello è l'ultimo creato, lo Scrapper 5. L'acciaio utilizzato è sempre l'SR101, la manicatura è in fobrene, un materiale gommato molto bello al tatto, foro in fondo al manico per eventuale cortino, una piccola rientranza per l'impugnatura avanzata, un coltello molto bello, ottimo per l'utilizzo leggero, la lama è da 4 mm, Scrappyard è una delle marche americane più famose, Scrapper 5.